Più di 120 studenti di 37 istituti alberghieri italiani. Questi i giovani che per tre giorni si sono sfidati all'Ipsar Beltrame di Vittorio Veneto per cercare di accapararsi l'etichetta di miglior cuoco, barista e addetto all'accoglienza turistica. I tre ambiti seguiti dalle scuole alberghiere. Come in tutti i percorsi alberghieri, questa è la gara nazionale degli istituti alberghieri di tutta Italia, gli istituti alberghieri hanno tre percorsi. Il percorso di enogastronomia, quella che si definisce come cucina volgarmente, il percorso di sale e vendita e il percorso di accoglienza turistica. Le gare sono state seguite da vicino da una speciale commissione formata da docenti. I 120 studenti provenienti da 17 regioni italiane in questi giorni hanno anche conosciuto il territorio. Dall'Abruzzo direttamente qui? Sì, Villa Santa Maria, dalla Patria dei Cuochi, appunto io e il ragazzo, io per sala. Abbiamo trovato una grande ospitalità qui a Vittorio Veneto e abbiamo visitato anche Valdobbiadene, ha assaggiato molti prosecchi, quindi apprezziamo molto. Ormai abbiamo concluso la gara e devo dire una bellissima esperienza. Noi siamo del Molise, dalla scuola di Termoli, che salutiamo. È stata una bella esperienza e le prove sono andate molto bene. Ho fatto la prova con la progettuale, cioè più o meno è andata abbastanza bene, poi con la pratica, sia in lingua che in ritenerario, va bene, bene. Alla prossima